Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Punto Pesca. Continuiamo con la serie di mulinelli di casa Okuma, questa volta vi voglio presentare Inspira, questo qui. Inspira esiste in due diverse colorazioni, sia white che red e vi dico già che questa volta mi voglio sbilanciare, secondo me questo è veramente un mulinello top di gamma a prezzo ragionevole e vi spiegherò nel vista da vicino il perché, perché ha moltissimi brevetti, è schermato contro la salsedine, ha l'idroblock e secondo me per il costo che ha è veramente un top. Quindi non perdiamo tempo, ve lo faccio vedere da vicino e poi un po' di considerazioni finali. Allora, eccoci con Inspira smontato con la vista da vicino, cercherò di spiegarvi nel modo più semplice possibile tutti i brevetti che ha, vi lascerò mentre scorre il video la scheda con la descrizione che viene riportata di ogni brevetto direttamente dal catalogo a video, in modo da riuscire a capire più semplicemente. Io cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile, però poi potrete leggere come viene descritto ogni singolo brevetto. Allora, partiamo dal corpo, il corpo è costruito in carbonio CX40, già nel precedente modello vi avevo spiegato che è un materiale un 25% più leggero e più robusto rispetto ai classici materiali degli altri mulinelli. La manovella è in alluminio, il pomello è in eva, classico pomellino in eva, 9 cuscinetti, quindi 8 più 1 sul guida filo, l'archetto è maggiorato, bello robusto, non ha nessun tipo di flessione, anche il rotore non ha nessun tipo di flessione, vi faccio vedere l'alberino, e c'è la rondellina per la regolazione del filo. Ok, partiamo con alcuni dei brevetti. Partiamo da questo, questo è il GDB, che cos'è? Al suo interno c'è un disco, è incorporato al suo interno un disco in ottone. A cosa serve? è un peso che fa in modo che il rotore giri in maniera perfetta. Qui, qui dentro c'è un disco. In più ageva anche l'apertura e la chiusura dell'archetto. Poi CFR, oppure detto effetto ciclonico, che vi spiegavo già in altri modelli che hanno gli Okuma. Praticamente serve a creare un flusso d'aria, in questa parte, che fa in modo di far girare bene il rotore e di espellere tutta l'acqua che arriva tramite il filo sulla bobina. poi, vi faccio vedere da qua, belli gli inserti, è bello il bianco perlato. Questo è il torsion system, che come vi spiegavo nell'altro mulinello, praticamente è un brevetto che fa in modo che il mulinello sottosforzo, sottosforzo, non faccia questa cosa qui, ma con questo brevetto, questo mulinello sottosforzo fa appena appena questa oscillazione qui. tra l'altro, questi, questo scusate, è uno dei pochi mulinelli bianchi che col tempo non diventa giallo, perché solitamente i mulinelli bianchi così dopo un po' di tempo diventano gialli. Ok, passiamo alla bobina. La bobina è in alluminio. Ok, qui c'è l'idroblock, che è una guarnizione che fa in modo di non fare entrare all'interno dei dischi della frizione, salsedine, sabbia e qualsiasi tipo di sporco. Frizione multidisco con olio giapponese, molto belli anche gli inserti qui. Vedo leggere la bobina. Parliamo adesso del tappo della frizione, che ha questo inserto in carbonio. Vediamo se riesco a farvi vedere la scritta. La frizione è progressiva. Questo disco in carbonio, oltre ad essere bello esteticamente, serve ad alleggerire il tappo della frizione, riducendolo il peso, aiutando la frizione ad essere anche molto progressiva. Adesso vi faccio vedere la scatola. Questa c'è al suo interno. Questa è la scatola che ispira. qui ci sono un po' di caratteristiche. Nel caso del 2000, vedete 8 più 1 cuscinetti, 5 1 rapporto di recupero. Non ci sono le avvertenze come negli altri modelli, le avvertenze per i bambini. Al suo interno c'è l'esploso, classico esploso. Come vi dico sempre, non buttate né la scatola né l'esploso. Una grossa pecca di questo mulinello è che la seconda bobina, purtroppo, invece di essere in alluminio, come la prima, è in graffite. E un'altra, secondo me, grossa mancanza, è che nella seconda bobina non c'è l'idroblocco. Qua c'è e qua non c'è. Secondo me, aggiungendo anche qualcosina in più sul prezzo, ci potevano fornire la seconda bobina in alluminio, o perlomeno, anche se in graffite, almeno con l'idroblocco, come la prima bobina. Adesso ve lo faccio vedere montato. Questo è il rumore della frizione quando viene chiuso. Ok. Abbiamo visto l'ispira da vicino, adesso facciamo un paio di considerazioni finali. Allora, eccoci tornati con Inspira. Allora, perché vi dico che vi voglio sbilanciare questa volta su questo mulinello? Perché avete visto tutti i brevetti che ha. Due colorazioni, tre misure, 2000, 3000 e 4000. Ci potete fare tutto quello che volete. Taglia piccola, dello piccolo spinning, su una piccola bolognesina, oppure ad esempio su una canela trotalago, taglia un po' più grossi, spinning più pesante, bolognese, fondo, feeder. Due colori, in questo caso io ho il bianco perlato, veramente molto bello, ma è anche molto bello anche rosso. Ecco, parliamo dei punti negativi. le uniche due cose che non mi piacciono di questo mulinello. La frizione è troppo rumorosa. A me le frizioni che fanno tutto questo casino piacciono meno. Sentite invece com'è silenzioso. Un'altra cosa che è un problema di molti mulinelli di Okuma, infatti tanti si lamentano appunto quando li facciamo vedere, che sembrano poco fluidi. Infatti vedete che non è che gira tantissimo. Questo è dovuto, mi è stato spiegato, che non è una per colpa della bassa qualità dei materiali con cui ho costruito il mulinello, ma è portato dal fatto che viene utilizzato al suo interno un grasso apposta per essere schermato, che è meno fluido di altri materiali per lubrificare. Quindi in questo caso il mulinello risulta meno fluido, ma non meno affidabile. Quindi non fatevi ingannare dal fatto che non fa 200 giri ogni volta che gli date un colpo di manovella, scusate, perché tanta gente valuta la qualità del mulinello facendo questo lavoro qua. Se gira all'infinito vuol dire che il mulinello è fatto bene ed è bello, altrimenti è una cagata. Invece in questo caso su molti mulinelli o kuma troverete che i mulinelli non sono fluidi, ma non è colpa, non è dovuto dalla costruzione di scarsi materiali, ma è proprio il liquido che si utilizza, il grasso che si utilizza per lubrificarli che è meno fluido di altri. Allora, parliamo del prezzo. Taglia 2000, poco più di 100 euro. Allora, che cosa comprate di altre aziende con queste caratteristiche a quel prezzo? Praticamente niente. Se non mettete mano al portafoglio e non tirate fuori almeno altre 70-80 euro, non vi avvicinate neanche a un mulinello tipo questo. Quindi decidete voi se vale la pena spendere di più per avere le stesse caratteristiche o se spendere di meno avere tre anni di garanzia, avere un mulinello schermato contro la salsedine, costruito in carbonio C40X, manovella in alluminio, idro bloc, 9 cuscinetti, 8 più 1, uno su guida filo, decidete voi. Per me, io se dovessi scegliere tra spendere di più e avere di meno o avere uguale, preferirei spendere il giusto ed avere quello che mi serve, cioè un mulinello che possa utilizzare sia in acqua dolce che in mare, che non debba buttarlo dopo una stagione di utilizzo, che sia piccolino, costruito bene, fatto bene, l'archetto funziona bene, non si piega niente. Io ve lo stra 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 consiglio, perché il suo prezzo li vale tutti. Decidete voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Inspira, se lo conoscete, se volete, se siete intenzionati a comprarlo, perché tecnica di pesca vorrete utilizzarlo. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!